E tu, soldato, da dove vieni? Signore, a resto, signore! Da resto vengono soltanto due cose, la bistecca pianina e i debosciati, e qui non vedo bistecche, quindi il cerchio si restringe! Signore, credo che su vitamincenter.it ci possa essere a rimedio il suo cattivo umore, signore! Spiegati meglio, soldato! È il sito di riferimento per prodotti legati alla salute e al benessere, bellezza, nutrizione sportiva, riduzione del peso, ci sono anche gli estratti vegetali per contrastare il malumore, oltre 200 marchi e migliaia di prodotti, tutto super controllato e con date di scadenza sempre visibili! Io non uso la mia carta di credito! Si può acquistare anche senza carta! Su vitamincenter.it trova tutto, anche la crema per la moglie, le vitamine per il figlio, c'è il servizio clienti sempre attivo e consegna a casa in un lampo, signore! E i prezzi? I prezzi sono bassi, gli sconti fino al 70%! Festeggiamo allora! Gradisce la mia compagnia cena? Volentieri! Offro io, signore! Ottimo! Compagnia, avanti! Vitamin Center, il sito per il benessere di tutta la famiglia!